Il microbiota è un po' come un'impronda digitale e non ci sono tipo due microbioti uguali. Questo ovviamente complica ulteriormente la situazione, quindi riuscire a studiare per bene il microbiota è complicatissimo, però stiamo facendo sempre più passi avanti nella comprensione di questo enorme microcosmo di organismi viventi che vivono insieme a noi e ci accompagnano per tutta la nostra vita e anche dopo la nostra vita perché quando passiamo a miglior vita e inizia la decomposizione del nostro corpo e il nostro microbiota che a quel punto inizia a digerirci perché noi non siamo più in vita, non possiamo più nutrirlo e quindi ciaone e inizia a digerire noi stessi.